Benvenuti, in questa lezione parleremo delle prestazioni termiche dell'involucro opaco. Nella prima parte abbiamo visto le prestazioni termiche dell'involucro opaco in regime stazionario, in questa seconda parte invece parleremo della trasmissione termica attraverso i ponti termici e delle prestazioni termiche in regime dinamico, sempre per l'involucro opaco. Allora, incominciamo a parlare della trasmissione termica attraverso i ponti termici. I ponti termici vengono definiti dal decreto legislativo 192 del 2005, come tante altre grandezze che troviamo per la certificazione energetica degli edifici. Qual è la definizione dei ponti termici? I ponti termici? Il ponte termico è la discontinuità di isolamento termico che si può verificare in corrispondenza degli innesti, degli elementi strutturali di un edificio. Quindi è la discontinuità di isolamento termico che si può riscontrare, per esempio, quando abbiamo l'incontro di superfici verticali, oppure quando un solaio di copertura incontra la parete verticale, oppure il solaio verso terra incontra la parete verticale. Abbiamo dei ponti termici, come si può vedere dall'immagine, quando il flusso termico, nel ponte termico, non è più unidirezionale, ma diventa bi- o tridimensionale. Questo causa, ovviamente, come si può vedere, una concentrazione di flusso termico proprio in corrispondenza del ponte termico. Quindi il ponte termico causerà una concentrazione di dispersioni termiche proprio nel suo intorno. Il decreto 192 del 2005 definisce anche i ponti termici corretti. Si hanno dei ponti termici corretti quando la trasmittanza termica sul ponte termico non supera per più del 15% la trasmittanza termica della parete corrente. Questo vuol dire che la trasmittanza termica attorno al ponte termico è molto simile a quella della parete corrente e quindi non ci sarà una concentrazione di flusso termico perché il ponte termico è un ponte termico corretto. A volte la trasmittanza termica sul ponte termico è chiamata trasmittanza termica su una parete fittizia nell'intorno del ponte termico, ma le due definizioni sono uguali. Quali sono gli effetti dei ponti termici? Sicuramente maggiori dispersioni termiche perché si ha una concentrazione del flusso termico attorno al ponte termico. Questa concentrazione può essere legata o a problemi di forma nell'edificio e per esempio che si hanno quando due pareti verticali si incontrano, quindi non ho una parete corrente infinitamente stesa, ma ho una parete verticale che finisce e un'altra parete che incomincia non sullo stesso piano. Oppure posso avere un ponte termico e quindi maggiori dispersioni termiche quando all'interno, per esempio, di una parete ho l'inserimento del pilastro che causa, per esempio, l'interruzione dell'isolamento termico. Quindi posso avere dei ponti termici quando ho una discontinuità di forma o una disomogeneità dei materiali che causano maggiori dispersioni termiche. Maggiori dispersioni termiche vuole anche dire temperature superficiali diverse e quindi quando si ha un ponte termico generalmente ho delle temperature superficiali differenti e quindi questo può causare, per esempio, problemi di condensa superficiale, delle muffe e il deterioramento, per esempio, di materiali tra cui, ad esempio, i materiali strutturali. La normativa tecnica riguarda i ponti termici a tre livelli di approfondimento. C'è la UNI ENISO 14683 che descrive i metodi semplificati e i valori di riferimento delle trasmittanze termiche e lineiche dei più comuni ponti termici lineari che ci sono sugli edifici. Poi c'è la UNI ENISO 10211 che consente di effettuare dei calcoli dettagliati per il flusso termico e le temperature superficiali. Questa normativa è composta da due parti. La prima riguarda i calcoli tridimensionali e la seconda i calcoli bidimensionali. La terza normativa è la UNI TS 11300 parte 1 che definisce i ponti termici o le dispersioni attraverso i ponti termici attraverso delle maggiorazioni percentuali rispetto alle dispersioni che si hanno lungo i ponti termici. Quindi il ponte termico causerà una maggiorazione percentuale rispetto alle dispersioni che avrei in assenza di ponte termico. Iniziamo subito a vedere quest'ultima normativa cosa dice. La UNI TS 11300 parte 1 definisce per i ponti termici delle maggiorazioni in funzione del tipo di struttura che abbiamo nell'edificio. Andiamo a vedere un pochino questi valori e incominciamo con un isolamento a cappotto con il ponte termico corretto. Le maggiorazioni legate ai ponti termici sono di circa il 5%. In una struttura invece a cappotto ma con balconi ed aggetti in generale abbiamo una maggiorazione legata ai ponti termici del 15%. Una parete in mattoni pieni non isolata ha una maggiorazione del 5%. Come mai due valori così simili se questa parete in mattoni pieni non è isolata? Perché? Perché questa struttura è già di per sé un ponte termico continuo perché è una struttura non isolata e quindi le maggiorazioni legate ai ponti termici sono piccole rispetto alla struttura. Poi abbiamo cassa vuota non isolata che causa per i ponti termici una maggiorazione del 10%. Una cassa vuota isolata invece con ponte termico corretto che avrà la stessa maggiorazione per i ponti termici. E poi la cassa vuota isolata con ponte termico invece non corretto 20% e infine la struttura che ha più ponti termici in assoluto è il pannello prefabbricato isolato che per la sua struttura propria causa un 30% di maggiorazione per i ponti termici. Questi sono dati che vengono utilizzati quando non si hanno informazioni più dettagliate soprattutto per gli edifici esistenti. La normativa che invece viene più utilizzata per valutare gli edifici è la Uni Eniso 14683 che contiene al suo interno le trasmittanze termiche lineiche dei ponti termici più comunemente presenti in edilizia. Allora, vediamo un attimo su quali grandezze si interviene. Il flusso termico può essere definito come un coefficiente di dispersione termica per la differenza di temperatura tra l'ambiente interno e l'ambiente esterno. Questo coefficiente di dispersione termica per trasmissione ha tre voci una voce che è legata all'ambiente esterno una voce che è legata al terreno e una voce che è legata invece agli ambienti non riscaldati. Quando parliamo di ponti termici facciamo riferimento alla dispersione verso gli ambienti che confinano con l'ambiente esterno. In questo caso abbiamo che il coefficiente di scambio termico per trasmissione verso l'esterno è dato dalla sommatoria per tutte le strutture di involucro opaco e trasparente di A per U più le dispersioni verso i ponti termici. I ponti termici possono essere lineari quando hanno una sezione trasversale costante uniforme e quindi la loro dispersione dipende solo dalla lunghezza di questo ponte termico oppure possiamo avere ponti termici puntuali quando non abbiamo sezioni trasversali uniformi ma il ponte termico è legato all'intersezione di due ponti termici per esempio lineari. in generale la normativa Unieniso 14.683 trascura i ponti termici puntuali e quindi fornisce le trasmittanze termiche lineiche di tutti i ponti termici lineari più comuni in edilizia. Questa è l'immagine che si trova sulla Unieniso 14.683 che riguarda i ponti termici lineari di cui abbiamo parlato. Quali sono questi ponti termici lineari tipici in edilizia? Per esempio il ponte termico lineare che si ha nell'incrocio tra la parete verticale e la copertura oppure il ponte termico lineare che si ha tra la copertura e una parete interna un divisorio interno oppure il ponte termico che si ha nell'innesto tra la parete verticale e il balcone oppure l'innesto che si ha l'incrocio che si ha tra due pareti verticali lo spigolo il ponte termico che si ha tra la parete verticale e il solaio verso il terreno tutti questi ponti termici vengono descritti e viene fornito per tutte queste tipologie di ponti termici la trasmittanza termica lineica tipica questo è un esempio della normativa dove si vede che vengono definiti questo per esempio è il ponte termico tra parete verticale e solaio di copertura vengono definite diverse tipologie di ponti termici che possono caratterizzare questo ponte termico e nella nella parte superiore della normativa trovate la descrizione per poter leggere l'escrizione delle strutture per poterle leggere quindi abbiamo in nero la parete in grigio la parete leggera con un tratteggio oblicuo strato isolante in bianco la soletta e il pilastro e invece crociato il telaio in questo caso per esempio abbiamo la parete isolata sull'esterno che incontra invece un solaio con sopra l'isolamento termico chiaramente vedete che c'è un passaggio c'è un'interruzione del materiale isolante dall'interno all'esterno che causerà ovviamente delle dispersioni in questo punto e quindi questo punto è un punto di ponte termico che causerà maggiori dispersioni termiche come facciamo a calcolare le dispersioni termiche andiamo a misurare la lunghezza del ponte termico e poi andiamo invece a leggere nella normativa le trasmittanze termiche lineiche vediamo che di queste trasmittanze termiche lineiche ce ne sono di tre tipologie una legata a una col pedice E una col pedice OI e una col pedice I la trasmittanza termica lineica col pedice E viene utilizzata per valutare le dimensioni cioè viene associata a delle dimensioni misurate esterne del ponte termico quindi dall'esterno dell'edificio quindi incluse le strutture la trasmittanza invece con pedice OI viene associata a delle dimensioni totali interne quindi viene associata a delle misure fatte dall'interno includendo tutte le partizioni interne la trasmittanza invece con pedice I è associata a delle dimensioni interne che escludono tutte le partizioni interne perché ci sono queste tre tipologie di trasmittanza termica lineica per ogni tipologia di ponte termico perché il rapporto tra FIE e la lunghezza e la dimensione del ponte termico deve dare sempre le stesse dispersioni e infatti quando ho delle dimensioni esterne e quindi saranno maggiori le dimensioni interne solitamente ho una trasmittanza termica lineica esterna più piccola in modo che il rapporto dia sempre lo stesso numero la normativa Unieniso 10.211 consente contiene dei calcoli dettagliati per valutare i flussi termici e le temperature superficiali in corrispondenza dei ponti termici per flussi termici bidimensionali e tridimensionali Il modello quindi di ponte termico geometrico viene suddiviso in celle e nodi e i risultati di questi ponti termici si troveranno in funzione applicando le equazioni di conservazione dell'energia le equazioni di Fourier e le condizioni al contorno del problema a queste celle e nodi Il risultato di questi calcoli è quello che vediamo in figura vediamo una distribuzione della temperatura nella prima colonna dove chiaramente vediamo che c'è una temperatura esterna superficiale più bassa rispetto alla parete corrente e dove vediamo che il flusso termico non è unidirezionale come è su tutta la parete ma in corrispondenza del ponte termico diventa bidimensionale perché si ha un passaggio di flusso termico anche laterale e quindi questo causerà maggiori dispersioni termiche questo programma questa normativa quindi questi programmi che utilizzano questa normativa consentono anche di valutare non solamente le maggiori dispersioni termiche ma consentono anche di valutare i problemi di condensa che ci possono essere in corrispondenza dei ponti termici abbiamo parlato dei ponti termici per valutare dispersioni termiche il dpr 59 2009 all'articolo 4 comma 4 dice il valore della trasmittanza termica si intende a ponte termico corretto e quindi cosa vuol dire vuol dire che se il ponte termico non è corretto quando valuto la trasmittanza termica di una struttura andrò a valutare una trasmittanza termica media della parete più il ponte termico e quindi se non correggo dal punto di vista progettuale il ponte termico dovrò avere delle trasmittanze termiche molto più basse che non se il ponte termico è corretto ora parliamo della seconda parte di questa lezione parliamo delle prestazioni termiche in regime dinamico finora abbiamo parlato delle prestazioni termiche in regime statico quindi considerando delle temperature esterne ed interne costanti e quindi abbiamo valutato i flussi termici le dispersioni termiche con e senza sole con e senza radianza solare con e senza ponti termici corretti attraverso l'involucro dell'edificio ma abbiamo detto che non sempre le grandezze statiche servono a valutare il comportamento termico di un componente le prestazioni termiche in regime dinamico sono delle prestazioni termiche che tengono conto soprattutto del regime estivo delle strutture in inverno si hanno poche escursioni termiche durante il giorno mentre in estate grazie alla forte radianza solare le escursioni termiche sono molto più importanti e quindi la temperatura durante l'estate varia in maniera molto importante durante la giornata causando anche delle forti escursioni termiche tra giorno e notte quindi la struttura non si comporterà più in regime dinamico ma avrà un comportamento che possiamo dire che è un comportamento dinamico variabile l'edificio infatti non trasmette solo il calore ma accumula anche calore e l'accumulo di calore è legato alla massa della struttura quindi cosa succede in una struttura una struttura in regime variabile prima di trasmettere il calore accumula in ogni strato il calore lo accumula lo trasmette in ogni singolo strato e quindi tra l'interno e l'esterno trasmette il calore dopo un certo intervallo di tempo che è legato alle caratteristiche di accumulo termico delle strutture l'accumulo termico deve essere garantito soprattutto in regime estivo in modo che non tutto il calore venga direttamente immediatamente trasmesso all'interno quando fa caldo ma il calore verrà trasmesso dopo un certo intervallo di tempo dopo un certo numero di ore per esempio il caldo delle tre del pomeriggio verrà trasmesso dopo dodici ore alle tre di notte quando comunque l'aria è più fresca e con la finestra aperta riesco a scaricare questo carico termico il giorno avrò l'esatto contrario alle tre del pomeriggio quando fuori fa molto caldo io ricevo il fresco accumulato dalla struttura alle tre di notte e quindi chiaramente ho un ottimo comportamento estivo anche della struttura una delle grandezze che caratterizza l'accumulo termico è la massa superficiale la massa superficiale viene definita nel decreto legislativo 192 del 2005 ed è la massa per unità di superficie della parete opaca considerando i giunti ma escludendo gli intonaci la massa superficiale come si calcola si calcola per i materiali omogenei moltiplicando per ogni strato dei materiali omogenei la massa volumica in kg al metro cubo per lo spessore in metri del materiale nel caso di materiali eterogenei nella normativa 10355 del 94 troviamo direttamente la massa superficiale della struttura la massa superficiale quindi è una somma di tutte le masse superficiali di ogni singolo strato e si misura in kg al metro quadro e ci serve a conoscere la massa di un metro quadro di parete è chiaro che la massa superficiale però non può essere l'unica grandezza che valuta la capacità di accumulo termico di una struttura perché non include il calore specifico dei materiali che distingue che consente con una grandezza che consente di distinguere la differente capacità di accumulare calore di diversi materiali cosa succede in regime dinamico in regime dinamico nel passaggio attraverso la struttura l'ampiezza dell'onda si riduce di un fattore FA quindi vediamo qua in nero e avrà un ritardo invece di S ore chiamato S spasamento cosa succede? succede che sull'esterno dell'edificio io ho un'oscillazione un'onda termica con un periodo di tempo di 24 ore e ampiezza A nel passaggio attraverso la struttura se questa struttura è ben isolata l'onda termica si riduce di un fattore FA che è detto fattore di attenuazione e contemporaneamente se la struttura è in grado di accumulare calore prima di trasmetterlo avrò anche tra queste due onde uno spasamento temporale di un certo numero di ore quindi l'attenuazione principalmente è legata alla caratteristica di isolamento termico della struttura mentre lo spasamento è legato principalmente alle caratteristiche di accumulo termico della struttura affinché una struttura funzioni bene in estate quindi in regime dinamico è necessario che avere un basso fattore di attenuazione e un elevato valore di spasamento orario la grandezza che troviamo nelle normative per caratterizzare il comportamento dinamico delle strutture è la trasmittanza termica periodica la trasmittanza termica periodica è definita come il flusso termico specifico che attraversa la struttura periodico diviso la variazione di temperatura sempre periodica sull'ambiente esterno quando considerando però che sull'ambiente interno la temperatura sia costante questa grandezza essendo data dal rapporto tra due grandezze periodiche è un numero complesso ma il suo modulo consente di calcolare diviso la trasmittanza termica in regime statico consente di valutare il fattore di attenuazione mentre il suo argomento consente di calcolare lo sfasamento e quindi la grandezza che serve a caratterizzare il comportamento dinamico delle strutture è la trasmittanza termica periodica perché dentro di sé include il concetto di attenuazione e di sfasamento insieme le linee guida nazionali con il decreto ministeriale del 26 giugno 2009 indicano danno delle indicazioni su come contenere il fabbisogno per la climatizzazione estiva in funzione dello sfasamento e delle attenuazioni quando si ha uno sfasamento superiore alle 8 ore allora abbiamo delle prestazioni da sufficienti buone e ottime uno sfasamento superiore alle 8 ore ha delle prestazioni estive sufficienti superiore alle 10 ore buone e superiore alle 12 ore ottime con una qualità prestazionale che va dal 3 all'1 se invece lo sfasamento è inferiore alle 8 ore inferiore uguale alle 8 ore allora le prestazioni diventano mediocre o addirittura sotto le 6 ore cattive con una qualità prestazionale estiva quarta e quinta di classe quarta e quinta insieme allo sfasamento però bisogna considerare anche l'attenuazione chiaramente più lo sfasamento è elevato migliori saranno le qualità prestazionali per quanto riguarda invece le attenuazioni dobbiamo avere minori valori di attenuazione per avere una migliore qualità prestazionale perché il fattore di attenuazione indica di quanto è ridotta l'onda termica e quindi vediamo che sotto lo 0,4 il fattore di attenuazione è sufficiente sotto lo 0,3 è buono sotto lo 0,15 è ottimo con qualità prestazionale che vanno dalla terza classe fino alla prima oltre lo 0,4 abbiamo delle prestazioni mediocre e oltre lo 0,6 addirittura cattive quando non si hanno valori di attenuazione si fa riferimento solo allo sfasamento il decreto invece del Presidente della Repubblica 59 del 2009 indica quali devono essere le verifiche da effettuare per gli edifici nuovi e per le ristrutturazioni globali ricostruzioni di edifici con superficie utili superiore ai 1000 metri quadrati nelle località in tutte le zone climatiche ad eccezione dell'AEF quando l'irradianza solare nel mese di massima insolazione sul piano orizzontale supera i 290 watt al metro quadrato e oltre alle schermature indica che le pareti verticali debbano avere una massa superficiale superiore a 230 kg al metro quadro o in alternativa il modulo della trasmittanza termica periodica inferiore a 0,12 watt metro quadrato Kelvin per le pareti orizzontali ed inclinate indica che il modulo della trasmittanza termica periodica deve essere inferiore a 0,20 watt metro quadro Kelvin come mai vengono date queste due indicazioni perché il problema sul comportamento dinamico si ha nei tetti in legno soprattutto che è una tecnica costruttiva tipica della nostra penisola del nostro paese cosa succede il tetto in legno è di per sé una struttura leggera e quindi non si può lasciare come unica verifica la massa superficiale perché un tetto in legno sarà molto più leggero di 230 kg al metro quadro e quindi per le pareti orizzontali inclinate quindi soprattutto per le coperture l'indicazione per la climatizzazione estiva è del modulo di trasmittanza termica periodica inferiore a 0,20 questo valore infatti vedete è più elevato rispetto a questo proprio per tenere conto che sui tetti in legno si possono avere dei problemi a rispettare questa normativa vediamo quali sono le province in cui è necessario fare questa verifica vi ricordo che in Italia abbiamo delle zone climatiche che vanno dall'A alla F da climi più umiti e climi più rigidi qua abbiamo la F esclusa dalla verifica della massa superficiale quindi qua vedremo le province che vanno dalla A non ce ne sono dalla B alla E chiaramente dove fa caldo quindi dove è forte l'arraggiamento solare nella zona climatica B abbiamo che tutte le province devono fare la verifica della massa superficiale perché il valore di radianza solare sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione supera sempre 290 watt al metro quadrato nella zona climatica C vediamo che è necessario fare la verifica della massa sempre ad eccezione della provincia di Salerno dove abbiamo che nel mese di massima insolazione la radianza media sul piano orizzontale è di 275 watt metro quadrato è chiaro che invece in zona climatica E sono pochi i capoluoghi di provincia che devono fare la verifica della massa perché chiaramente il clima è più rigido e quindi chiaramente si hanno meno problemi ad esempio in Piemonte vedete che non c'è nessuna provincia né Varcelli né Varbania né Torino né Asti né Alessandria perché questa tabella è stata fatta nel 94 quando non c'erano ancora tutte le province italiane vedete che non è necessario fare la verifica della massa superficiale ma in ogni caso attenersi a quelle indicazioni vuol dire costruire meglio e costruire dei sottotetti in cui è possibile stare anche in estate vediamo un esempio di comportamento statico e dinamico associando due materiali molto diversi polistirene espanso sinterizzato e calcestruzzo in questo caso confrontiamo il comportamento di 14 cm di polistirene espanso sinterizzato più 14 cm di calcestruzzo con isolamento dall'interno e dall'esterno cominciamo a confrontare queste due colonne la trasmittanza termica U in regime statico chiaramente è uguale quindi non l'ho indicata più nell'altra colonna perché ovviamente se l'isolamento è all'interno o all'esterno nel comportamento statico non cambia nulla ma vediamo il comportamento dinamico con isolamento dall'interno abbiamo uno 0,15 di modulo di trasmittanza termica periodica e invece 0,08 se l'isolamento è sull'esterno e quindi vedete questa struttura rispetta il limite di legge di 0,12 quest'altra no i materiali sono gli stessi cambia semplicemente la posizione dell'isolamento il fattore di attenuazione vedete vedete come varia abbiamo uno 0,57 con isolamento dall'interno e uno 0,29 con isolamento dall'esterno e inoltre vedete che se confrontiamo i valori di spasamento temporale isolando dall'interno vedete riduciamo lo spasamento temporale di più di un'ora l'ultima tabella l'ho inserita per confrontare invece la seconda struttura con la terza nella terza struttura infatti non abbiamo più 14 cm di polistrene espanso interizzato ma ne abbiamo solamente più 10 cosa succede vedete che il modulo della trasmittanza termica periodica arriva a 0,11 quindi rispetta comunque i limiti di legge l'attenuazione è praticamente uguale 0,29 0,30 e lo stesso vale per lo spasamento quindi questo ci dice che ovviamente la trasmittanza termica statica sarà molto cambiata perché ho tolto 4 cm di polistrene espanso interizzato quindi questo ci dice che nel calcolo delle caratteristiche termiche dinamiche non è tanto il materiale isolante il materiale importante quanto invece il materiale pesante il materiale che ha una grossa capacità di accumulare calore esattamente il contrario di quello che succede per il comportamento statico dove invece è molto più importante il materiale isolante del materiale ad alta conducibilità se volete fare un'esercitazione sul sito del comune di Torino trovate nell'allegato dell'anoggetico ambientale del comune di Torino trovate questo semplice foglio di calcolo in cui si possono inserire tutti i materiali isolanti con la conducibilità il calore specifico la densità e lo spessore e il software vi consente di calcolare la trasmittanza termica della struttura la massa superficiale il fattore di attenuazione lo spasamento e la trasmittanza termica periodica il modulo della trasmittanza termica periodica in modo da poter fare delle verifiche questo foglio di calcolo potete utilizzarlo sia per le pareti verticali che per le coperture naturalmente verso l'ambiente esterno e vediamo alcune domande sugli argomenti trattati in queste lezioni la posizione dell'isolante termico nella struttura influenza il valore di trasmittanza termica periodica abbiamo visto proprio nell'ultimo esempio come due strutture con il calcestruzzo e il polistreno espanso ma con isolamento dall'interno e dall'esterno se la trasmittanza termica statica è costante invece la trasmittanza termica periodica cambia perché cambia l'attenuazione e cambia anche molto lo spasamento temporale quindi la risposta è sì questa volta è sì seconda domanda il materiale isolante è il materiale fondamentale per definire le prestazioni termiche dinamiche delle strutture in questo caso la risposta è no perché il materiale isolante in generale è un materiale che ha una bassa massa volumica quindi non è in grado in generale di accumulare calore per definire le prestazioni termiche dinamiche invece è importante il materiale pesante il materiale che è in grado di accumulare calore e quindi se nelle prestazioni statiche è molto importante il materiale isolante nelle prestazioni dinamiche invece è molto più importante il materiale ad elevata massa volumica e ad elevato calore specifico quindi quello che si fa per avere delle buone prestazioni statiche e dinamiche è quello di per esempio per i tetti in legno che sono l'elemento più delicato da questo punto di vista è quello di utilizzare due materiali isolanti uno ad alta densità e uno a bassa densità in modo da associare da ottimizzare entrambi i comportamenti statico perché o comunque un grosso spessore di materiale isolante e dinamico perché una parte del materiale isolante è un materiale ad alta densità in grado di accumulare calore e questo rende vivibile il sottotetto in legno sia in condizioni invernali che in condizioni estive per ulteriori approfondimenti consultate il nostro sito arrivederci grazie a tutti e